Possiamo leggere un verso, dei versi introduttivi nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10. Vangelo di Giovanni, capitolo 10. Leggiamo il versetto 11. Chi lo trova me lo legge fuori. Vai Aurora. Grazie. Io sono il Buon Pastore. E Gesù, il figlio di Dio, che esprime queste parole, e il versetto dice chiaramente il Buon Pastore mette la sua vita per le pecore. Non so quanti di noi hanno avuto opportunità di conoscere delle pecore da vicino o di averne avuto a che fare. Direttamente neanche io. Però, nella gioventù, c'erano sempre dei pastori con delle pecore che pascolavano i nostri terreni. E bene o male conosciamo la figura del pastore, questi animali che vengono guidati, che vengono custoditi. E qui il versetto dice «Il Buon Pastore depone la sua vita per le pecore». Ci sono delle situazioni in cui il pastore affronta qualunque pericolo per difendere il suo greggio. E non sarebbe il primo che si espone anche alla morte. Questo differenzia il Buon Pastore, il proprietario, dal mercenario, dall'operaio. Lo dice più avanti, poi lo riprenderemo. Il mercenario vede il nemico, vede il lupo, scappa prima lui. Il Buon Pastore lo affronta. Bene, sappiamo che il nostro Buon Pastore è il Signore Gesù. Leggiamo anche i versetti 14 e 15. Io sono il Buon Pastore, conosco le mie pecore e le mie conoscono me, come il Padre nostro conosce me e io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. è una conoscenza reciproca, profonda. Naturalmente c'è un rapporto. Gesù è venuto in mezzo a noi come uomo, eccetera. Qui ci ricorda che lui è il nostro Pastore. Il Pastore e la Pecora non sono allo stesso livello. Chiaramente, questo lo dobbiamo comprendere, così come noi non possiamo essere allo stesso livello di Dio. Gesù è sceso al nostro livello duemila anni fa per avvicinarsi alla nostra situazione. e vediamo che il Signore Gesù usa questa immagine perché anche in Palestina, in Israele, era abbastanza diffuso questo lavoro. Sappiamo che l'agricoltura e l'allevamento del bestiame partono con Adam e Devo, con Cain e Abele, se vogliamo, no? la Bibbia racconta nella Genesi Abele aveva un gregge di pecore e Caino coltivava i frutti della terra. Gesù si serve di questo per dare un esempio alla nostra vita. Vediamo di seguire un po' qualche altro passaggio. e quindi parla al nostro cuore con questa parabola, con questa immagine. Chiaramente non abbiamo lo stesso scenario, probabilmente Gesù stava, vedeva in lontananza, in vicinanza, un gregge di pecore seguito dal suo pastore. Penso che in questo caso parlando di Gesù non abbiamo problemi a riconoscere Gesù il nostro pastore per eccellenza. Se parliamo di uomini allora possiamo magari discutere se lui è pastore, è pastore, potrebbe farlo, non potrebbe farlo, lo svolge bene, lo svolge male. Ma qui parliamo del pastore dei pastori, nostro Signore Cristo Gesù. e per conseguenza se noi siamo gregge, il gregge di Dio, anche noi dobbiamo riconoscere che lui è quello che ci guida. Ancora il profeta Esaia si serve di questa immagine al capitolo 40 leggiamo il versetto 11 Isaiia 40 versetto 11 Qualcuno che me lo legge? Forte e chiara? Vai, Samuel. Come un don pastore che li pascerà e li raccolterà 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 Ok, grazie. Quindi vediamo qui una figura protettiva che li raccolterà e li raccolterà e raccolterà gli agnelli in braccio e costituisce coloro che allattano. Parlando del buon pastore abbiamo un altro passaggio molto conosciuto nella parola del Signore un salmo che fa il salmo più famoso. se parliamo del buon pastore e parliamo dei salmi quale ci viene in mente? Un po' più forte non l'ho sentito bene salmo 23 infatti come comincia il salmo 23? l'Eterno è il mio pastore nulla mi mancherà e prosegue questo inno questo canto ma oltre Davide ci sono anche altri profeti che hanno parlato del pastore per esempio Ezechiele profeti Ezechiele capitolo 34 leggiamo alcune versette allora c'è Ezechiele 34 abbiamo il versetto 23 tanto per iniziare è tutto un capitolo che parla del buon pastore al versetto 23 dice stabilirò su di esse un solo pastore che le pascolerà il mio servo Davide egli le pascolerà e sarà il loro pastore abbiamo ancora qualche altro versetto possiamo leggere anche il 25 stabilirò con me con esse un patto di pace farò sparire le belve malefiche dal paese così esse potranno dimorare al sicuro nel deserto e dormire nelle foreste abbiamo anche il 28 non saranno più preda delle nazioni né le dimoreranno più le fiere della campagna ma dimoreranno al sicuro nessuno le spaventerà e poi versetto 16 che è quello che ci interessa di più in questo momento io cercherò la perduta ricondurrò la smarrita fascerò la ferita fortificherò la malata ma distruggerò la grassa e la forte la pascerò le pascerò con giustizia abbiamo qui quattro categorie vengono suddivise le pecore in almeno quattro categorie quattro categorie svantaggiate parla della pecora perduta smarrita ferita e malata vediamo di capire la differenza fra la pecora smarrita e la pecora perduta la perduta è qualcosa che quando noi perdiamo qualcosa che non troviamo più o che non siamo in grado di ritrovare qualcuno che cade in un burrone difficilmente è in grado di ritornare sopra la differenza lo smarrimento è una situazione di confusione dove noi magari possiamo trovarci in un posto nuovo che non abbiamo che non conosciamo abbastanza e che quindi siamo in grado di camminare stiamo bene però in quel momento siamo confusi quindi non siamo in grado di tornare abbiamo bisogno di una guida quindi c'è una differenza fra la persona semplicemente smarrita o perduta parlando nella parabola del figlio prodigo il padre parla col figlio dice tuo fratello era perduto ed è stato ritrovato quindi qualcosa in cui ormai non c'è più nessuna speranza mentre sullo smarrimento ci sono ancora delle speranze quando poi parliamo della pecora ferita le ferite le conosciamo anche noi abbiamo diversi tipi di ferite solitamente è un agente esterno che ci colpisce può essere un coltello può essere una spada può essere un proiettile può darsi che siamo passati vicini a qualcosa di appuntito una ringhiera un ferro possiamo cadere nel cemento possiamo farci male anche lì abbiamo diversi tipi di ferite ma chiaramente non possiamo analizzarle tutte solitamente una ferite quindi qualcosa un'azione improvvisa veloce che ci lascia un segno solitamente un'azione esterna verso di noi verso l'interno a differenza invece della pecora malata la malattia si forma dentro di noi anche se ci sono degli agenti esterni come virus e batteri che dall'esterno si inseriscono nel nostro corpo tramite le vie respiratorie o la nostra bocca e così via però la malattia si sviluppa dentro di noi e quindi noi a un certo punto stiamo male cominciamo a stare male un raffreddore una febbre un'intossicazione o qualcos'altro di più grave quindi è un qualcosa che dall'interno va verso l'esterno abbiamo detto che qui il Signore Gesù desidera recuperare anche queste categorie di persone o di pecora se preferite dice formerò abbiamo già letto lo ripetiamo formerò con esse un patto di pace un'alleanza perché sì noi ci siamo così allontanati che siamo quasi diventati nemici con il Signore Gesù cerca di spiegare questo mentre parla con i suoi ascoltatori fra i quali c'erano anche delle persone di responsabilità infatti parlando degli iscrivi farisei troviamo questa nota i farisei avevano appena allontanato dal gregge un uomo che aveva osato rendere testimonianza la potenza di Cristo e che il vero pastore aveva cercato di attirare a sé Gesù cosa faceva? svolgeva delle azioni di recupero e spesse volte di che cosa veniva accusato? ma tu stai con i peccatori ma tu non puoi prenderti cura di questa persona che ormai la sua maledizione è sopra di lui da diverso tempo e invece Gesù è venuto ad analizzare proprio queste categorie venire a visitare la malata abbiamo un altro passaggio torniamo al Vangelo di Giovanni capitolo 10 questa volta leggiamo versetto 1 e versetto 2 Vangelo di Giovanni capitolo 10 chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore ma vi sale da un'altra parte è un ladro e un brigante ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore l'ovile costituito da un recinto un posto dove le pecore possono riposare durante la notte durante la tempesta durante i momenti difficili a volte ci sono delle persone che vogliono intrupolarsi delle persone o degli animali che vengono per fare del male alle pecore parlando l'altro giorno con un vicino mi diceva appunto che parlava di lupi che a casa di suo fratello sono entrati e hanno ucciso dalle pecore o dalle altre situazioni Gesù fa questo parallelo parla di briganti parla di ladri ma la strada di Dio dice i farisei non compresero che quelle parole erano rivolte a loro perché evidentemente non si comportavano così come avrebbero dovuto comportarsi dice il ladro non viene se non per rubare ammazzare e distruggere ma io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza quindi a seconda della situazione se noi cerchiamo di recuperare qualcuno che sta male oppure se siamo lì solo per dare una una condanna se in questa situazione te lo sei meritato cosa vuoi fare? non puoi fare niente parlando dell'ovile e di Cristo Gesù dove lui dice che lui non solo entra per la porta ma che lui stesso cioè chi non entra per la porta è un ladro ma la porta è Cristo stesso e l'ovile ha una caratteristica qui la sabbia di Dio dice sono entrati nell'ovile e la grazia in effetti che cosa è venuto a portare Gesù? Gesù è il compimento del piano che Dio ha preparato quella grazia che ha promesso quella grazia che ci permette di essere nuovamente in comunione con Dio quindi viene associata dalla grazia alla figura dell'ovile un posto di rifugio dove poterci ritrovare dove poterci ristorare e andare avanti se noi cerchiamo di arrivare per una via diversa stiamo facendo qualcosa di sbagliato se noi vogliamo escludere Cristo per la salvezza dell'uomo siamo come dei ladri siamo come dei briganti noi non possiamo nel nostro rapporto con Dio togliere la figura di Cristo Gesù perché ma perché dovremmo avere bisogno di togliere Cristo Gesù perché magari sentiamo il bisogno di mostrarci noi forse vogliamo mostrare qualcosa qualcosa di particolare che abbiamo fatto vogliamo sminuire quello che l'ho fatto per mettere in luce la nostra parlando dei pastori che non hanno compiuto il loro dovere Ezechiele non l'abbiamo letto lo possiamo leggere dice voi non avete fortificato le pecore deboli non avete guarito la malata non avete fasciato quella che era ferita non avete ricondotto quella che era smarrita anche qui abbiamo di nuovo quattro categorie più o meno le abbiamo già dette definite e non parliamo solo di pecore parliamo anche di uomini e dobbiamo ricordare che quindi si sta parlando di noi anche noi possiamo trovarci in una situazione diversa abbiamo citato persone che sono in convalescenza perché sono malate hanno avuto un intervento sperano di poter guarire e noi preghiamo il Signore che le possa guarire abbiamo malattie fisiche abbiamo anche malattie spirituali ed è questo che il Signore Gesù si rivolge anche in modo particolare forse non siamo in un letto di ospedale forse non siamo a pronto soccorso forse non siamo in fondo ad un burrone però siamo comunque delle persone scariche magari siamo demotivate magari non ci sentiamo apprezzati ci sentiamo abbandonati non ci sentiamo integrati nell'ambiente dove viviamo insomma ci sono diverse categorie di persone possiamo vivere in una città dove ci sono milioni di persone ed essere completamente soli sentirsi anche abbandonati la situazione nella società è molto variegata abbiamo milioni di persone miliardi di persone ma dal punto di vista spirituale siamo abbastanza tristi siamo abbastanza soli abbiamo bisogno di ricevere una buona notizia o di rifoncillarci con dell'acqua fresca uno degli scopi principali per cui Gesù è venuto sulla terra è stato quello di ricollegare il nostro rapporto con Dio quel rapporto che è stato interrotto dal peccato se noi interrompiamo se noi non vogliamo questa meditazione di Cristo Gesù ecco che non abbiamo più una speranza che cosa ha fatto il Signore Gesù? Il Signore Gesù si definisce il pastore il pastore del grece e lui ha sacrificato la sua vita abbiamo detto prima che il pastore è in grado di sacrificarsi nei momenti di pericolo Signore Gesù nei nostri confronti si è già sacrificato quindi abbiamo una certezza in più parlando ancora del grece sia in Palestina che anche nella nostra Italia è facile vedere il pastore che guida il grece il pastore va avanti chiama le pecore le pecore lo seguono magari è possibile vedere qualche cane cane pastore così viene definito che aiuta le pecore a stare unite a seguire il pastore mentre se magari capita di vedere delle immagini che arrivano dal Sud America il pastore col cavallo spinge le pecore in avanti ma è molto più suggestiva quella di cui stiamo parlando perché il pastore fra le altre cose conosce così bene le sue pecore che le chiama per nome ma tutte le pecore dà un nome a noi può sembrare strano però come noi a un animale domestico che teniamo in casa diamo un nome così anche il buon pastore non importa se ne ha 10, 50 100 o 200 le chiama per nome e a tutti dà un nome e se noi magari ci lamentiamo con il pastore perché magari qualche pecore è uscito fuori dalle fila ed è entrato nel nostro giardino e ci ha fatto dei danni a volte con la descrizione che noi diamo lui è già in grado di riconoscere chi è stato ma questo non ha importanza parlando delle persone che mettevano a rischio la propria vita per le pecore nella Genese abbiamo un altro esempio abbiamo Giacobbe Giacobbe che anche lui ha fatto l'allevatore per tanti anni quando si trovava ancora a casa del suocero era lui che si occupava era lui l'operaio era lui il servo e lui infatti al versetto capitolo 31 versetto 40 dice di giorno mi consumava il caldo di notte il gelo il sonno fuggiva dai miei occhi cioè sintetizza in questa frase la vita del pastore durante il giorno le ore calde il caldo mi bruciava e mi consumava durante la notte arriva il freddo e comunque se sei in giro con le pecore non puoi dormire cioè anche se stai lì a riposare il sonno fuggiva dai miei occhi altre storie bibliche per esempio la storia di Davide ci racconta che esperienza ha avuto Davide Davide il ragazzino era un pastorello e prima di affrontare il gigante Golia lo stesso racconta che ha liberato delle pecore dall'orso e dal leone quindi da pericoli molto molto gravi molto molto forti anche il Signore ci chiama per nome non solo il nome che abbiamo il Signore Gesù vuole dare un nome speciale ad ognuno di noi nell'Apocalisse nel Messaggio delle Sette Chiese troviamo a chi vince io darò una pietruzza bianca e su questa pietra c'è scritto un nome nuovo un nome di vittoria un nome di cambiamento un altro un altro un altro aspetto che dobbiamo considerare è che pur essendo un gruppo pur essendo tanti il Signore Gesù ama ciascuno di noi singolarmente un po' come la mamma oggi non abbiamo più questa realtà ma tornando indietro di qualche decennio troviamo famiglie numerose 7, 8, 10, 11 figli e tu chiedi alla mamma la mamma ti racconta di ognuno di loro tutte le sue vicissitudini tutto l'amore che lei ha mostrato la domanda che la mamma non vuole sentirsi dire è quella chi di questi ami di più ci sono dei casi la Bibbia ne parla che qualche genitore ha manifestato delle preferenze nei confronti di qualcuno ma non è difficile incontrare la mamma che ti dice per me i figli sono tutti uguali oppure le mie attenzioni sono rivolte a un figlio che magari si è ammalato al figlio che è più piccolo che magari ha dedicato le sue ultime attenzioni ma semplicemente per questa ragione non per altro un altro aspetto del gregge e che il Signore desidera che noi lo seguiamo non ci obbliga di spontanea volontà lui ci invita lui cerca di attirarci di persuaderci con le sue promesse facendoci mostrandoci qual è la nostra situazione mostrandoci una via di scampo una via di uscita non importa dove noi possiamo dove noi dobbiamo passare ci possono essere dei sentieri facili dei sentieri angusti dei sentieri pericolosi adesso siamo nella stagione del cambiamento finisce l'estate arriva l'autunno e i gregi che sono stati portati in alta montagna cominciano a scendere vengono portati a valle per trovare il ristoro per trovare un clima più adeguato e nel percorso possono esserci vari pericoli c'è una frase particolare che mi ha colpito più di tutte le altre il Salvatore sarebbe disposto per salvare un uomo e introdurlo e introdurlo nel suo regno a passare di nuovo attraverso l'agonia del Calvario tanto è l'amore di Gesù non per l'umanità per una sola persona anche ipotizzando che ci fosse stato un'unica persona da salvare Gesù non avrebbe rinunciato a fare quello che ha fatto quella persona potrebbe essere una persona indefinita ma potrei essere io potresti essere tu il Signore Gesù non ci ha lasciati soli è venuto per riscattarci ancora a volte noi pensiamo di ritrovarci soli nei momenti difficili la Sede di Dio dice egli non ci lascia soli nella lotta contro la tentazione quando noi siamo tentati a volte pensiamo veramente di essere soli ma quasi sicuramente non è così a meno che non siamo andati noi a cercare la tentazione perché anche nel rapporto con la tentazione ci sono delle tentazioni che vengono rivolte verso di noi il nemico ce le propina ce le mette davanti altre volte siamo noi che con i nostri capricci con i nostri sogni con le nostre cose siamo noi che ci mettiamo in un terreno pericoloso siamo noi che ce ne siamo andati a cercare pericoloso ma il Signore Gesù non desidera questo un po' come il genitore che aspetta il ritorno del figlio a casa e si tranquillizza solo quando sente che il figlio rientra e così il nostro Padre Celeste non ci vuole abbandonare mai infatti abbiamo un altro versetto molto conosciuto che spesso dedichiamo gli uni agli altri nel libro del profeta Esaia capitolo 54 versetto 10 Esaia 54 10 chi me lo legge qualcuno l'ho trovato vai Aurora vai quindi il mio amore non si allontanerà mai da te è possibile il contrario che noi ci allontaniamo dall'amore di Dio ma il suo amore non si allontanerà da noi quindi noi di questo dobbiamo farne una certezza il Signore Gesù ebbe a dire che lui è venuto per recuperare coloro che sono ammalati coloro che sono feriti coloro che sono nel bisogno e parla dice parlando ero in Israele ci sono delle pecore che si trovano anche altrove io sono venuto a salvare tutti quanti quindi noi non abbiamo un elemento per poter dire io sono fuori dalla grazia di Dio lui si prende cura di noi lui dice io depongo la mia vita per riprenderla poi nessuno me la do ma sono io che la depongo in questo Signore Gesù si fa comprendere che il sacrificio che ha fatto lo ha fatto per una scelta una scelta fatta per amore non per costruzione dice volontariamente rinunciò la propria vita per offrire a me a te l'immortalità lui ha portato il peccato di tutto il mondo sulle sue spalle ne ha accettato il castigo alla maledizione quindi noi adesso possiamo riavere la vita quindi se noi vogliamo fare felice il Signore come possiamo fare felice il Signore se noi ritorniamo al Padre se noi rendiamo valido il sacrificio che lui ha fatto perché lui il sacrificio ormai l'ha fatto se noi non accettiamo il suo invito è come se Gesù non fosse morto per noi non c'è nessuna speranza ma invece dobbiamo ricordare che lui è venuto a cercare me a cercare te posso trovarmi in questo momento in un momento difficile in un momento di smarrimento posso forse trovarmi perduto posso forse essere ferito deluso amareggiato o posso anche essere malato nel senso che magari il dubbio o altre insinuazioni del nemico stanno lavorando nel nostro cuore mettono in dubbio la nostra comunione con Dio di una cosa dobbiamo essere certi che il Signore Gesù ci ama che ha dato se stesso per me e per te e che sta preparando un luogo con quanti posti abbiamo ricevuto degli inviti per dei congressi e ci sono dei numeri che dobbiamo che non possiamo trepassare ma non ci sono numeri per il cielo c'è posto c'è posto per tutti ma c'è posto in particolare per te c'è posto per me e che il Signore ci guidi affinché noi possiamo essere vittoriosi in questo mondo malvagio e un giorno poter essere nella comunione del nostro Padre Celeste per sempre Amen vogliamo andare in priera Padre Santo misericordioso che sei nel cielo veniamo a te per ringraziarti dell'opportunità che ci hai dato questa mattina di essere qui alla tua santa presenza ascoltare la tua parola grazie Signore di tutto quello che tu ci doni fa che possiamo ricambiarti donandoti il nostro cuore affinché tu puoi compiere la salvezza in tutti noi Signore fa che possiamo prenderci cura gli uni degli altri fa che possiamo essere un piccolo gregge che ti segue fedelmente grazie ancora della pace e della libertà che tu ci stai offrendo fa che possiamo sfruttare questi doni per fortificare la nostra vita spirituale per poter fare le giuste scelte per poterti appartenere per ora e per sempre ve ne dice ognuno di noi qua presenti ve ne dice coloro che sono assenti particolare Signore ti preghiamo per coloro che sono in un letto di malattia in un momento di dolore in un momento di sofferenza abbiamo continue richieste di preghiera Signore vuoi tu ascoltarle fa che anche noi possiamo condividerle possiamo pregare gli uni per gli altri in modo particolare Signore aiutaci a venire a te affinché possiamo confessare il nostro peccato e possiamo riconciliarci gli uni gli altri non abbiamo dei meriti da presentarti ma ti volgiamo ogni grazia per i meriti del tuo figliolo Gesù che è morto per noi sulla croce Amen Stando in piedi con riferenza invochiamo la benedizione del Signore L'Eterno ti benedica e ti custodisca L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio L'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti